Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove ci sono rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Pioggia in A1 tra Firenze Nord e in Cisareggello e in Fipili tra San Miniato e la diramazione per Pisa. Per quanto riguarda le statali, sulla Aurelia riduzione di carreggiata per lavori tra i chilometri 343-800 e 343-900 tra Pisa Nord e la variante di Viareggio in entrambe le direzioni. Riduzione di carreggiata per lavori tra i chilometri 226 e 231 tra Scarlino, Scalo e Rio Torto in direzione Cecina. Sulla statale Trebbi-Stiverina svincolo chiuso per lavori a Canili in direzione Viterbo-Terni. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!